Fumate dai camini della ferriera, niente di nuovo, spiace dover dire, certamente episodi che non dovrebbero accadere. Un danno all'ambiente, alla salute e allo sguardo di chi vede dipinta la città come un luogo malsano, traspurato. I video che girano in rete sono pubblicati dai residenti, che come sempre segnalano per primi tutto ciò che a loro giudizio di negativo accade all'interno dello stabilimento. Quell'area a caldo sempre menzionata come maggiore problema da dover risolvere, punto focale della politica, tra dichiarazioni e prese di posizione. Non a caso anche gli inviati delle Iene si sono interessati ormai da tempo alla questione ferriera. Ieri sera un nuovo servizio del canale Mediaset ha mandato in onda gli estratti delle parole del sindaco di Piazza, che in diretta a Ring su Telequattro, durante la campagna elettorale, ha firmato un documento in cui si impegnava per la chiusura dell'area a caldo. Lei dice che entro 100 giorni chiuderò l'area a caldo? No, assolutamente guardi no. Nel mio programma c'è la chiusura dell'area a caldo, primi 100 giorni, contratto firmato. Non è che un sindaco va lì e fa una firma anche perché la controparte mi fa una causa da 50 milioni di euro che dopo... Lei come primo cittadino lo può fare? Guarda, io sono convinto che adesso le cose rotoleranno a nostro favore e che a breve chiuderemo l'area a caldo. Ecco dunque che le Iene, come fatto a Ring, presentano al primo cittadino un nuovo contratto da firmare davanti alle telecamere. Noi le abbiamo preparato un nuovo contratto che lei può firmare e dà la sua parola, quella definitiva però, ai cittadini di Trieste. Io sono il chiuso di Roberto Di Piazza, in qualità del sindaco di Trieste, mi impegno a chiudere l'area a caldo e la feriene, questa volta davvero. Questo contratto a valore vincolante va bene, non posso ammettere i giorni. Come no, ci sono i puntini, li sceglie lei. Siamo seri, quando si parla di certe cose non si può assolutamente scrivere io entro giugno, entro marzo, entro aprile. Però lei può scegliere veramente il tempo che vuole, se ci metterà meno, tanto meglio. Le metto, impegno a chiudere l'area a caldo e la feriere, questa volta davvero, prevedo il capo e le divisioni. E quindi entrano un oltre prossimi X, mettiamo una X. E quanto prima? E metta qua quanto prima. Prenda questo, e niente, non è peggio. Per quanto prima è scomparso.